rosoliamo aglio e olio fino al singolino della bistecca a questo punto andiamo ad aggiungere l'agnello tagliato tenuto a bagno con il vino bianco e andiamo a rosolare su tutti i lati fino al simbolino della parota arrivato al simbolo della carotina lo andiamo a girare e lo risoliamo anche nell'altro lato una volta rivelato su tutti e due i lati vado ad aggiungere un po di sale vado a sfumare con un po di vino bianco il fornello e vado ad aggiungere un po di rosmarino a questo punto cambiamo il coperchio andiamo a mettere seco quick navigiamo in modalità automatica e vado ad impostare 15 minuti a turbo una volta aperto il sacco quick eccolo qua se volete lo potete rosolare un po a fiamma viva ultimo possiamo rosolare anche con il navigenio capovolto sopra la nostra pentola così da renderlo bello dorato grazie a tutti